Ho scelto tra le riviste di Maria Caso ed è capitata la rivista Padri del 2005 numero 4, la prima a cui ho collaborato. Leggerò quindi un pezzo del mio racconto su mio padre e sono Maria Rosa Pantè. Mio papà è un Alzheimer. Il racconto finisce così. Come mai sei qui? Mi chiede e io gli dico, ti ricordi quando facevamo il presepio sul vecchio baule? Il mio primo ricordo papà è con te. Ero così piccola che non arrivavo a vedere le statuine. Allungavo la manina per afferrarle. Poi sei arrivato tu papà. Mi hai preso in braccio e mi hai offerto un mondo di luci colorate. Il mio folle volo, reso sicuro, tra le tue braccia. Lui quasi sorride. Forse dimentica per un attimo le sue sofferenze e poi mi dice. Non mi ricordo, ma ho piacere che sia successo.